Chi è Anna Ivanovi, la nuova sexy testimonial del brand Intimissimi Ha 29 anni e alle spalle ha già collezionato una carriera da vera star, Anna Ivanovi era una tennista di successo, vincitrice di 15 tornei PTA e numero uno nel mondo per 12 settimane. Ora si è ritirata, ma rimane sempre una personalità di successo, nonché una donna dal fascino ineguagliabile. Così il brand Intimissimi l'ha scelta, insieme a Irina Shaikh, Dakota Johnson e della Mills, come testimonial della sua nuova campagna, il cui obiettivo è mostrare donne di successo che parlano di sé, delle loro carriere e della loro lingerie, senza però mai mostrarla. Con l'hashtag cancelletto Insideut il brand ha voluto lanciare una campagna internazionale che valorizzi la femminilità con eleganza e discrezione. Non c'è miglior testimonial della sexy tennista serba, che con il suo savo il faire e il suo fascino impeccabile ha stregato il pubblico. Anna Ivanovi, una vita di successi. Classe 1987, Anna Ivanovi è originaria di Belgrado e di professione faceva la tennista. Si è ritirata nel 2016 dopo aver vinto 15 tornei da, tra cui un Roland Garros ed essere stata la numero uno al mondo per 12 settimane nel 2008. Dopo aver trascorso un periodo di difficoltà sportive, la tennista è tornata nella top 10 mondiale nel 2014, aggiudicandosi 56 vittorie. Nel 2016 invece si è sposata con il calciatore Bastian Schweinsteiger, star della nazionale tedesca. La Ivanovi ha iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni e durante la sua infanzia ha vissuto non poche difficoltà, tra cui i bombardamenti della Nato del 1999 nella Jugoslavia. È cresciuta in mezzo a disordini politici e guerre, ma è riuscita con grande determinazione ad arrivare al successo sportivo, esordendo come professionista nel 2003 all'età di 16 anni. La prima vittoria è arrivata nel 2005 a Canberra, con il titolo Taida e da allora si sono susseguiti una serie di successi che l'hanno portata nell'Olimpo del tennis internazionale. Dal 2010 però ha iniziato ad avere alcuni problemi fisici che l'hanno costretta ad un rallentamento, provocando un periodo di declino nei suoi successi sportivi. La tennista è riuscita a tornare al vertice nel 2014, ma solamente per due anni, al termine della stagione 2016 infatti, ha annunciato il suo ritiro. La campagna ha cancellato insidute di Intimissimi. Dopo circa un anno dal suo ritiro, Ana Ivanovi è stata chiamata come testimonial di Intimissimi per raccontare se stessa e il suo amore per il tennis. Insieme a lei ci sono state anche l'attrice Irina Shaikh, compagna di Bradley Cooper, la bellissima Dakota Johnson protagonista del celebre film 50 sfumature di grigio e Ella Mills, imprenditrice e scrittrice di libri di cucina. Le quattro donne sono state immortalate dal fotografo Mario Testino, vestite con il loro abbigliamento tipico. La campagna cancelletto insidute ha sdoganato l'idea che i brand di Intimo debbano mostrare donne seminude per promuovere i prodotti, lanciando invece un'idea di femminilità decisamente elegante e raffinata. Di certo, la bellezza di Ana Ivanovi è spiccata e il pubblico, che già impazziva per lei, non ha fatto altro che apprezzare ancora di più la sua personalità e il suo fascino. Iscriviti al canale